Ragazzi, Church, come state? Spero tutto bene. Allora, volevo fare il commento sul quarto episodio di Esterno Notte di Marco Bellocchio sul caso Moro, quarto episodio. Si parte col punto di vista nel primo episodio di Aldo Moro, nel secondo episodio si parte col punto di vista di Cossiga, ministro dell'interno, terzo episodio, punto di vista del Papa e dei suoi soldali Don Curioni, Macchi e il segretario di Stato Vaticano Casaroli, Macchi, segretario personale del Papa, io parlo per chi è un po' adepto alla vicenda, quindi alcune cose le do per scontate, scusatemi. Quarto episodio si va con il punto di vista sui brigatisti, no? I brigatisti e nello specifico Adriana Faranda e il suo compagno brigatista Morucci, no? Faranda Morucci, la famosa coppia. Prima però ragazzi vi chiedo un'iscrizione al canale, iscriviti al canale per seguire questi contenuti, anche le recensioni cinematografiche su, mi piace molto il true crime, ma su docufilm, su docuserie che parlano spesso di fatti realmente avvenuti. Allora, Faranda Morucci, sapete che facevano parte del comitato direttivo delle BR, avevano un ruolo di primo piano e viene fatto il punto sulle vicende che riguardano la Faranda, come sapete le viveva con Morucci, si occupava un po' della parte strategica di gestione dello stagio, non gestione pratica, ma gestione diciamo sulla trattativa, si vede lei che incontra la Franco Pace, che era un emissario del partito socialista, subito rifiutato da Moretti, che era il capo delle BR. E fondamentalmente si vede anche il dissidio interiore di Faranda quando capisce che il sequestro Moro sta andando in una sola direzione, cioè quello di ammazzare l'ostaggio, lei non capisce il perché. C'è il focus sulla famosa lettera che Moro scrisse a Cossiga e Moro voleva che rimanesse segreta, proprio per innescare una trattativa segreta, invece Moretti li raggiunge e gli dice che non rimarrà segreta perché la democrazia cristiana agisce sempre in segreto, invece loro vogliono fare le ragioni del popolo. La Faranda lì rimane molto in dubbio, cioè molto controversa perché dice allora non lo volete liberare se ci propongono una trattativa con Cossiga segreta e voi non la volete attuare rendendo pubblica la lettera, Moretti in quel punto si scalda, eccetera, eccetera. Poi fondamentalmente sappiamo, facciamo un passo indietro, due cose fondamentali di questa puntata. La prima è che Faranda e Morucci sono stati capaci di parlare per dieci anni senza dire nulla, quindi io non credo che ci siano stati mai dei testimoni così inattendibili e inefficaci. Certo, hanno svelato alcune cose su Via Fani, sul sequestro, che prima non si sapevano, hanno aperto la strada per capire un po', però sempre dal punto di vista delle BR. Ecco, la cosa fastidiosa di questo quarto episodio è che si tende sempre a specificare che sono state solo le BR ad ammazzare e sequestrare Moro, quando sappiamo che non è stato così assolutamente. E mi fa specie che quattro ragazzini, perché si parla di Faranda e Morucci e Moretti e Balzerani, che erano dei trentenni credo, possano aver fatto una roba del genere, trattare con lo Stato italiano, trattare... mi sembra molto molto ridicolo che venga propinata una cosa del genere agli italiani, in bell'occhio. E sappiamo che Faranda e Morucci parleranno in carcere, c'è il memoriale di Morucci, questo memoriale... praticamente questi non potevano parlare col magistrato se prima non parlavano con i servizi segreti, quindi se Morucci voleva dire qualcosa o il memoriale... il memoriale Morucci è famoso perché arrivò a Cossiga dopo che era passato dai servizi segreti, che andavano a trovarlo in carcere, e poi arrivò al magistrato. Quindi Morucci prima parlava con i servizi segreti, poi parlava... che interloquivano con il ministro Cossiga, che era presidente della Repubblica ai tempi, credo, e poi dopo un anno questo memoriale arrivò al magistrato. Quindi immaginate che contorto meccanismo riguardava questi due, che erano completamente ascoltati e controllati dai servizi segreti anche in carcere, si presume. E poi c'è la scena in cui questi quattro brigatisti, cinque brigatisti, sei quanti erano, si allenano a sparare contro due auto ferme, sempre dalla parte sinistra. E c'è una piccola ricostruzione di nuovo di Viafani, con tre o quattro brigatisti travestiti da travieri, tipo, da capostazione, che escono dalle famosi siepi di quel bar e sparano dalla sinistra contro le macchine, sempre in tre o quattro secondi di sequenza. E' un ridicolizzare, diciamo, ancora una volta il pubblico italiano, perché ci fu un fuoco incrociato, ci fuono degli uomini anche dalla destra, e anche in questa ricostruzione di Viafani, nel quarto episodio, scompare la famosa Miniminor, scompare quella macchina all'angolo. Quindi la Rai propina un racconto fantasioso di Viafani, che non ha nemmeno dei rilievi scontati come la macchina all'incrocio fra via stessa e Viafani, che anche nella ricostruzione del quarto episodio non c'è. Quindi questo l'ho trovato sconcertato, ma ormai dopo il primo episodio mi sono un po' abituato a una ricostruzione faziosa, mi sembra, della vicenda, anche perché ci sono Faranda, Morucci, Balzerani e Moretti, che parlano in mezzo alla strada del sequestro, ma cos'essero parlando al bar. Non credo proprio che questi quattro trentenni, o poco più che trentenni, siano riusciti, o abbiano potuto fare una cosa del genere. Si parla nell'ultima inchiesta del 2017 di Moretti, infiltrato dalla CIA, e ne parla un alto esponente di un'organizzazione, Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, FLP. FPLP ne parla proprio di questo, perché i servizi palestinesi erano legati alle BR e provarono anche loro a fare qualcosa tramite un capofronte lì in Palestina, legato ai servizi, ma dissero che Moretti, Abu Asaf, credo che si chiami, si pensa che Moretti fosse infiltrato dalla CIA, ma questo diciamo è abbastanza intuibile, ci sono ormai, tutto è bloccato, queste inchieste sono finite, magari ricominceranno, perché sono in corso altre inchieste, credo, però, una ricostruzione del genere è fantasiosa, a bell'occhio, mettere quattro brigatisti, due coppie, Morucci Faranda e Balzerani Moretti, che gestiscono tutto, Moretti che non vuole che si parli con la Franco Pace, perché bisogna parlare solo con l'ADC, con l'ADC equivale a non parlare, la Faranda che ha queste ideologie comuniste, Morucci li fa capire che sono tutte fandone, perché non si riuscirà mai a costruire un governo socialista all'interno dello Stato italiano, insomma, lascia un po' il tempo che trova, la cosa bella del quarto episodio è una retrospettiva sulla vita personale della Faranda, che abbandonò la bambina con la nonna e si diede un po' la lotta armata. E poi c'è il suo disidio interiore in cui inizia a rinnegare un po' la sua appartenenza, ma la cosa incredibile è che la Faranda e Morucci hanno parlato per anni con gli inquirenti, ma non è mai emerso nulla, solo discorso vacuo, denso di parola e di ideologia che non hanno attinenza con la realtà, ma senza mai parlare di quello che poi può interessare la società civile italiana. Ecco, loro non hanno mai fatto un favore. Nello sceneggiato del quarto episodio emerge il fatto che la Faranda consigliasse di liberare i muro proprio per far del male allo Stato italiano, perché ce l'avevano ormai contro, perché aveva visto che nessuno della Dicilia lo aveva aiutato, scusatemi, e poi dice, parlando con il suo compagno Morucci, dice, mi sembra strano che Berlinguer del Partito Comunista, proprio Moro li ha fatto intender il governo e lui si sia messo così contro e abbia così forte il pugno sulla non trattativa e sulla fermezza. e invece Moretti escude completamente il rilascio dell'ostaggio e dice che verrà ucciso, però c'è un forte, forte punto sull'EBR, sul fatto che siano state loro, eccetera, eccetera. E, ripeto, la ricostruzione di Viafani è uno schiaffo all'intelligenza e alla storia. Sappiamo che si dice sempre che gli italiani non hanno memoria storica, hanno eliminato un'auto che era all'incrocio fra Strese e Fani nel sequestro, infatti l'auto di More della Scorta sono state fotografate, bloccate in mezzo alla strada e in avanti e sulla destra c'è questa mini-minor di cui vi ho parlato nel video sul primo episodio. E, bell'occhio, questa ricostruzione del 2022 se lo facevi nel 1980 questo sceneggiato magari poteva anche colpire, ma adesso sono cose ormai superate queste, cioè non possono essere stati solo i brigatisti, sono teorie ormai superate. Niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, potrei parlare ancora, ma mi fermo qua via, aggiungerò sul quinto episodio, iscriviti al canale di Bella V per seguire informazioni anche di questo tipo, recensioni cinematografiche. Alla prossima, ciao, cheers!